Oggi ti voglio parlare di quello che potrai fare in Italia conoscendo un po' della nostra lingua. Ciao, mi chiamo Maria e sono un'insegnante di italiano, inglese e spagnolo. In passato, quando viaggiavo all'estero, prima di partire, studiavo la lingua del paese dove andavo, un po' con la speranza di capire quello che le persone mi avrebbero detto, un po' per avvicinarmi alla cultura del paese che avrei visitato e un po' anche per gioco. Anche tu lo fai? Se ancora non lo fai, oggi ti darò 5 motivi per farlo. Per prima cosa, penso che sia molto più bello visitare un paese conoscendo almeno qualche parola della lingua che si parla, perché questo ci aiuta ad immergerci di più nell'esperienza e a sentirci meno un pesce fuor d'acqua. Conosci questa espressione, sentirsi un pesce fuor d'acqua? In italiano significa non sentirsi a proprio agio in un luogo o in una situazione, come un pesce che fuori dall'acqua e quindi fuori dal suo habitat naturale non sta bene. Ma torniamo all'argomento di questo video. Conoscendo l'italiano, potrai sentirti più autonomo quando ti sposti. Sia che tu decida di guidare o muoverti con i mezzi pubblici, conoscere la lingua ti potrà aiutare a non perderti, a non dover chiedere mille informazioni e quindi anche a risparmiare tempo. Di recente sono andata a trovare mia sorella in Svizzera e non conoscendo il tedesco, oltre a sentirmi un pesce fuor d'acqua, ho rischiato di perdere il treno e di prendere anzi quello sbagliato. La stazione di Zurico è infatti molto grande ed ho dovuto chiedere informazioni a tre persone diverse prima di capire dov'era l'ufficio informazioni. Potrai poi sentirti più sicuro nel visitare luoghi un po' più sperduti, dove le persone potrebbero non parlare l'inglese. In Italia, infatti, molte persone parlano inglese, ma non tutte. L'inglese è certamente una lingua più conosciuta nei grandi centri e dove c'è turismo. Potrai poi interagire con persone locali. Ovviamente lo puoi fare anche conoscendo l'inglese, ma gli italiani amano parlare soprattutto nella loro lingua e se sei fortunato incontrerai qualcuno che ti racconterà storie interessanti o ti farà scoprire i posti meno turistici e più caratteristici del luogo. Infine, potrai metterti in gioco con la lingua e l'esperienza sarà certamente divertente sia che tu riesca a comunicare bene sia che tu faccia qualche gaff. Ancora ricordo le gaff che feci quando viaggiai in Spagna, in Portogallo o quando mi trasferii in Inghilterra. Sono quelle piccole cose che rendono un viaggio indimenticabile. Spero che questo video ti sia stato utile e che deciderai di studiare l'italiano prima del tuo prossimo viaggio in Italia. Grazie. Grazie. Grazie.